Il 27 gennaio 2019, agli ore 19, lo chef Franco Marino inaugurerà ad Agropoli, presso il New Blue Angel, sito in via Belvedere in località Trentova, un progetto ed un concetto molto bello sul panino gourmet del territorio, ovvero con prodotti esclusivamente campani e con sapori di una volta, come il panino con polpetta al sugo oppure il panino con parmigiana di melanzana. Il panino imbottito diventa il protagonista di una nuova esperienza gourmet, a fare la differenza tra un panino classico e uno gourmet del territorio. Non è solo la farcitura, ma anche il pane stesso, realizzato con grani macinati a pietra, che crescono con tecniche di agricoltura integrata e con quelli macinati a cilindri, che provengono da agricoltura biologica o convenzionale. Lo chef è originario di Pestum ed ha iniziato la sua attività grazie alle sollecitazioni da parte del padre e della nonna, dai quali ha appreso e rubato i segreti del mestiere. Ha lavorato in Italia e all'estero diverse esperienze, tra cui Budapest, dove ha avviato un ristorante italiano, il Rock's World, pasticcere, chef a domicilio, docente e consulente in ambito gastronomico, Franco Marino è anche autore di un libro, dal titolo Cuore, Mani e Mente, presentato alla Feltrinelli di Salerno lo scorso 5 novembre 2018, che raccoglie ricette che vanno dalla tradizione al gourmet fino alla cucina vegana. Ritornato alla grande surai 1 nel noto programma La prova del cuoco, condotto dalla bravissima Elisa Isoardi, ha messo in evidenza la sua bravura e la sua professionalità. Ritornando all'evento, in programma per il prossimo 27 gennaio, si fa presente inoltre che ci sarà una selezione di panini dedicata agli intolleranti al glutine e per chi segue una dieta vegana-vegetariana.